Un caro saluto a tutti e tutte. Ieri ho pubblicato il video ISS si muove sul campo elettrostatico della terra piatta col proposito di trasmettere la possibilità che la ISS magari senza equipaggio a bordo possa effettivamente trattarsi di un oggetto che si muove sopra la terra piana attraverso la levitazione grazie all'elettromagnetismo. Nel video c'è una ripresa dove si distinguono chiaramente le nuvole e la scia di un aereo cosa impossibile dai 350 ai 405 chilometri della presunta orbita dal suolo terrestre. In un punto del video dico ma questa è veramente una foto che ha scattato un oggetto largo 108 metri da 400 chilometri? Ovvio che può essere solo un fake. Questo video è dedicato ai credenti inetti e per credere intendo credente del globo mentre per inetto mi attengo alla treccani. Inetto che non ha attitudine per determinati lavori, compiti, attività, inabile, incapace per natura o per scarsa preparazione ed esperienza nel proprio mestiere o nella professione, nell'arte che si esercita. Per quei miseri commentatori che scrivono post che vedono solo loro, i quali mi suggeriscono di prendere una macchina fotografica e di scattare le fotografie della ISS, oltre ad informarvi che sono un esperto fotografo, adesso andiamo ad analizzare la foto in questione. Inserisco una riga per avere un riferimento. Notate niente? La fotocamera immortala con regolarità il numero di frame impostati ogni secondo. Significa che se un oggetto si muove a velocità regolare, la distanza dell'oggetto immortalato avrà sempre la stessa distanza. Vi aiuto. Qui, 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 qui e qui. Mancano i fotogrammi? Magari la ISS si muove a scatti? No, si tratta semplicemente di una presa per i fondelli. Oppure credete veramente, come in questa fotografia, che con due scatti si possano avere dei fermo immagine del genere da un oggetto a 400 chilometri di distanza che si muove a una velocità pazzesca? Non è un mistero della fede. È il mistero del credo che annebbia la possibilità di qualsiasi cognizione intellettiva. Vi rammento il secondo canale YouTube, il prezioso indice alfabetico, il libro Il Risveglio e Canal 104 Plus Telegram. Grazie di aver guardato.